bella a tutti ragazzi, qui è Maxetto e oggi siamo qui di nuovo per fare Destiny stesso episodio con Ale Lincoln e Xaxoxaxaxa e questa volta... Che ne sono passati Max? Si penso due o tre Bella ragazzi sono NerdRog89, oggi ci troviamo qui con Maxetto e Xaxoxaxaxa e continuiamo la nuova puntata di Destiny, siamo rimasti in questo buco, sono tipo quattro mesi che stiamo in questo buco intanto qua si trovano quadri a terra, chissà per quale motivo, devo andare a mangiare ma non mi importa e questa volta troverete anche il loro canale in descrizione oh grazie, finalmente allora andiamo avanti prima di andare avanti volevo avvisare che il server di Maxetto è liberamente griffabile è lasciato alle ombre come ha detto qualcuno allora lo vedi, è una storia lunga, lunga lunga hai tempo per andare a sinistra o a destra? no, se hai tempo vai a sinistra altrimenti a destra giusto, noi non abbiamo tempo quindi vai a destra short story tu sei un piccolo pezzo di merda c'è scritto qui davvero? oh che bello molto demotivante pezzo di cacca e vabbè torna indietro e fai la long version che bastardo wow il chizzo con nome figo c'ha trollato ok, prima di tutto prima di tutto devi sapere che non ci si legge una seppia ti ho dimentito dall'inizio non sono Bob, sono Dio sì lo so, è abbastanza difficile da capire ma sto cercando di spiegarti tutto il Benjamin esiste veramente il suo nome reale è ora almeno questo sì che si conosce satan ma i trappi eh eh Bob va bene mi è elaborato andiamo avanti non mi importa è stato strullato da venire immagini di proteine bla 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 madonna quanti cazzo di carte non mi sono rotto di leggere infatti è una long story guarda questo guarda questo ah c'è vetro c'è vetro c'è vetro il trucco c'è ma non si vede oh ho sentito qualcuno rompere qualcosa una cesta e ti si sono rotte la paglia eh 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 ah che bella che bella roba questa bella storia lunga poi ce la faremo tradurre probabilmente la metto tra le annotazioni se ce la faccio allora ma non c'è niente mi sembra strana quest'acqua messa qui e non c'è niente allora Jack Sucks ci va vabbè andiamo a dicere verità trust no one dove andiamo? io vado di qua trust vuol dire fidati 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 di nessuno ok ci siamo due belli divisi in questa parte c'è la f*** and toy and toy cosa vai tu prima tu vai 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 c'è acqua ma preferirei guardare cosa c'è di là oh uh troppo tardi ahia vuol bere fatto malissimo cosa c'è di qua eh io sono andato sto guardando un attimo è rimasto sopra il bastardo ah che bello era una via una via è bedro questa sì eh può darsi che siamo eh sì siamo abbastanza bassi no adesso stiamo a 40 ma se andiamo di qua andrezzeremo a 5 prendi qua dov'è grazie di avermi creduto è tempo di procedere e tornare indietro take back ti dai il mio non c'è niente eh le abbiamo già preso ok qua si sale si sale si sale occhio a guardare dietro perché prima c'era stata una cesta una cesta stai per iniziare un nuovo viaggio stai per iniziare un nuovo viaggio no ma che figata il portale è fatta così io ci salto dentro questo tizio deve avere un sacco di vita sociale è una ma no sembrava un intercettore ma questa mappa non c'era l'intercettore ale ale ma fatti un po' mi indietro fammi leggere non so più veloce e svelto è svelto lui oh con lei questo diamante è che aiut noi c'è diamante laggiù potrebbe essere familiare di sicuro oh attenti qua raggiungi la destrazione e rompi la glowstone ok dietro il portale e inizia la tua avventura rompi la glowstone rompi la glowstone dietro il tuo portale eh dobbiamo entrarci prima di ok ho fatto una laggata ora non ci sarebbe niente però cosa ha detto che c'era dietro una cesta e dove sono? ecco la brutta vomita vomita ok altri due dai si sta per si deve fare il record portal ricordiamo a tutti che nel nether si lagga questo è dove siamo entrati prima si deve rompere un po' giusto si è vero siamo arrivati dove sarà prima e quindi adesso che bisogna fare ah rompere la glowstone rompere la glowstone no 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 aspetta dove date io no 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 giunque cos'è quest'acqua che non ti tira ma non è strana what the fuck ma c'è bellissimo ma cos'è? ma sono io che riesco a camminare nell'acqua ma no sicuramente sarà un blocco che non è quello ah eh è un blocco pseudo acqua pseudo acqua ma no c'è boob siamo all'inferno sono all'inferno no ho quattro blades dove sei io ho tante mele dorate mi prego la salata 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 l'ho appena dimenticato lui ha tutti i poteri che esistono stai attendo? può fare qualunque cosa vuole e qua c'è scritto che c***o che c***o pressure game pressure game pressure game no che c***o non abbiamo messo amici patcher aiuto ah no no ho capito perchè si vedono strani questi blocchi perchè non abbiamo messo amici patcher avevamo iniziato avevamo iniziato dalla 1.3 e poi dopo siamo passati vabbè non importa anche perchè è molto più carina l'acqua questa acqua mi mette tranquillità potrei stare qui delle ore a fissarla eh no se lo meno il fuoco con scritto pressure game è molto figo sono fiamme questi facciano nether brick cioè no nether brick allora oh davvero vuole colpiamole giusto per sparirà nero ah no erano vedono 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 poi niente parkour si invece è quasi quindi no mai già spazio s oddio mamma mia all'anno no parco no ma dai ho tolto anche il ma tutto anche il coso di qua non c'è niente di qua neanche probabilmente ci sarà qualcosa là dietro dai che cado ok ok nooo sono morto sono morto aiuto aiuto salvatemi dove sei caduto e siete dei coglioni di merda ahahah devi sempre usare l'altro fantastica non c'è l'ho la mia fantastica ho fatto farsi update tutto strano e marcia oh si è un televisore samsung questo ragazzi sotto dove mi fate spunto per favore l'ho samsung ah si tp slash tp ehm guardate quante belle no tp ma cosa c'è oh 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 ho visto una cesta ho visto una cesta qua dietro eccola lì ha detto come faccio a prenderla ikea ikea il modoro vai io mi prendo mi prendo l'emodoro poi sembra un re eeeh c'è la posizione eh c'è la posizione ma c'è la posizione e la resistenza al fuoco perfetto una cesta tre polveri di blitz se c'è la se c'è la questa cosa è una cosa cosa c'è di bello per spingersi dal fuoco ho capito che è pronto conoscere la resistenza al fuoco dai mettiamo un po' pausa per mangiare vai ad abbottarti a botta skin a pelle ti ascolta lacrime di gas rosso di rosa sangue a se ne si riuscire da me ti solle grandi labbra asda non toccare se il letto esplode non ho ancora capito che il letto esplodono capo devi bello no gli letti esplodono cazzo perché nessuno lo sa quella maledetta la 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 scusate non stavo bestemmiando sono morto di vini vini il tuo letto risulta mancando e ostruito a ti ostruisco le chiappe ma buona steve oh fai la dose mi sa che dobbiamo fare qualche pozione c'è eh c'è mica qualcosa per le pozioni ok fotte ma non credo il tutto c'è una stanza dove puoi entrare cold buona non fa niente è qui che si va dov'è che è qui dalla da qua no questa qui è la doccia c'è anche un'altra via no è qui ah questa qui è una è un piccolo strego per avere i sono due brini no no vieni su vieni su a buttali non voglio che finisca nella lava prendi prendi non voglio che finisca nella lava ha detto benissimo quante place abbiamo e non mi sto facendo abbiamo 64 più 17 te quanti ne trovati l'ho lì che c'era scritto oh 64 più 19 vabbè io direi di ah no questi sono meloni scopilo io direi di andare giù e metterli in pausa ok e andiamo giù ok giù semplicemente andiamo giù è come città vedere questa quest'acqua che si muove posso vederci attraverso molto utile molto utile ah si va di qui ok e allora da qua metto una un'altra polvere di blaze vengo qua si mette in pausa e ci vediamo dopo ho mangiato ciao ciao a tutti ragazzi siamo ritornati qui dopo aver mangiato infatti adesso ho la pancia piena in poi c'è voi no 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 e bisogna andare si è parlato manca andiamo a pesca da un euro a pesca si bisogna andare a pesca ah che cacchio ecco ah ciao ho detto se un anno ho detto no ok è stato inserita mi sembra il se non tu mi non a se è andato non è portale aspetta aspetta vengano portate quasi per andare ok e allora va anche nel portale vengo 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 ho dormito la 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 eccomi qua la notte ho dormito qua c'è una cassa che ha preso roba dalla cassa c'è una cassa che ha preso roba dalla cassa su gesto e cerchiamo prendiamo su 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 voglio vedere fuori fuori ok ho impostata perfetto super il tubo aspetta qualcosa l'auto non poteva un dito nel culo l'altretto un dito nel culo ma non diciamo queste brutte forno dai bambini che ci stanno vedendo a casa mettono di tene sedile polveri di pezzo che dicevano quella cosa di una dei blocchi di loco sto scavare sotto 12 blocchi di posto licea poco legge non lo ma non riesco ad aggirare anche io non ho riesco a leggere io togli per favore dalle dacca allora togli ammattina mia prestigioso patte mi sa che questa la fine ops finalmente si è uscito dall'inferno da dove o come ci si riuscì come no 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 voglio partire non voglio partire dove si è andato l'hai sconfitto era forte si era molto forte che significa che non è qui oddio penso che stia preparando alcune trappole per te dentro il suo laboratorio buona fortuna no 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 voglio partire ho partito io ho deciso io no ma no ma no mi faccia ma ci sceva da dietro ciao vale ciao io ho anche un carrello da miniera di scorta non si sa mai carrile miniera di scorta oddio madonna mia ciao oh siamo arrivati alla fine ah no the lab no avevo letto male delle end the lab blab c'è io mi 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 sono vedrai devo essere down o qualcosa jump down ho qualche qualche relativa perfetto adesso va più veloce che cazzo orca mua addio you will die guardate guardate questa questa immagine tristissima con un tizio lab tu mi stai letteralmente sul cazzo no 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 non voglio andarmi io pensavo che io che mi sessero no sto scherzando luke ti voglio bene eeeh tp sono bugata sono andata fin non so dove non so dove ah ecco vedi la sopra c'era il coso invece sono finito hai qualche cosa da darmi tipo polveri di blaze no non ho preso niente buono meglio così a giro non c'è niente dobbiamo un altro po' si dorme? no no ma che cosa dobbiamo fare? non ce n'è bisogno ah io c'ho due blaze comunque ah 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 chi è questo? dire le tue preghiere ah 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 io will die perfetto ma se ci si dorme uno mano non sei niente stai per morire ah 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 Max eh ah ecco chi ci aveva le polveri di blaze omicidio detto il contrario aspetta Ok no, come non detto io non ho fatto niente Bene, benvenuto nella stanza rossa As you already know, I'm Ben Come Ben sai, io sono Ben Conosci tu anche come il diavolo Come Ben sai, io sono Ben Ho rubato i poteri di Dio E sì, ho ucciso Ti ho ucciso in meno di 10 secondi Siamo morti Che era sta... Allora io la facevo Benvenuto nel mio laboratorio Sto per intrappolarti qua dentro per sempre E tu non progetterai di scappare da qui Non scapperai da qui come da questa tua Molto figa, molto figa la via Pretty cool Che significa pretty cool? Molto carino Molto figo Molto figo Molto figo il modo Vero? Ho tutti i poteri Avere tutti i poteri è veramente divertente Come essere in creative E tu sei creativo Da quando ho ucciso le persone nel modo normale Sono... Ti ho lasciato morire Dalla starvation Ma credo sia salvation Starvation Verold è la tua Starbender Starbender Dovrebbe essere da morire di fame Come starbender Dovrebbe essere da morire di fame Come starbender Alla altra La messagina Quello che... Fate avanti Una volta E vado a me Quanto cazzo scrive sto titolo È una scelta Ok È una tua scelta Juper Qua per morire E l'aver Io moro immediatamente E qui invece è il laboratorio E questo mi trolla quindi io vado di qua Oh cazzo Io andrei di qua giusto per vedere cosa c'è di bella Adio No? Non ci ha trollato Siete morti? No, siamo intrappolati Anche qua so già che mi intrappolerò Da quel messaggio Da quel messaggio lì in fondo Si rompe questo? Ah no, qua sotto si può No E mo? Accidenti a voi quando mi avete Mi avete fatto venire qua Maxetto si sta trattenendo dal Mestermiacci addosso Accidenti a voi Cos'è questo potere di volo Che mi è appena arrivato Dal nulla Madonna ma non ne ho proprio idea Accidenti Stop il video Ma perché sto Ah fanculo Vedi era Io già Già vedevo Il menu Tra l'avanti di qua Secondo me Qua? Eeeh Sinistra C'è già la donna I love this machine Oh mio dio Guarda tutti quelli Arrapati laggiù Do you remember that machine? Quello lì davanti al muro ti assomiglia Guarda a te Ehi tutti quelli Invece tutti quelli dalla parte dell'uomo Sono tutti X-Ax Tutti i fili X-Ax Tutti i game Is the one Godzilla Famosa E' quella del laboratorio di Dio Quella che crea umani Che ho rubato Io creo umani Quanti bob ci sono Madonna mia Ciao bobo che mi fai? Villico più? Villi... Oh 20 cose mi danno Troppi bob Troppi bob Aiuto Qualcuno c'è anche Speramente c'è anche Ciao bobo Ciao bobo Ciao ben Ciao ben Ciao ben Ciao bobo Vabbè ben Vabbè ben No Ah lol Si fa Rispetta la fila per favore Come no Come no Oh quasi salta e si muore Però non so sicuro se è vero Per favore salta e muori E ce la lava Ciao ciao No stavolta no Test Non per te Sì tu sì Tu devi morire adesso Non farmi perdere tempo Per favore Oh cazzo Non voglio farlo Ma il mio voglio C'è qualche cesto da sopra Sotto barra Non farlo mai più Non farlo mai più Oddio Cos'è? Sai che sta cosa invisibile Che c'è qua You want to die Qua Ah his name is his experiment Oddio oddio C'è una cesta là sopra O sbaglio No è un pistone Lol addio 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 Ci mancherai Non vedo dove vado Aspetta aspetta Dopo essere Sceso Vai alla tua destra Morte Ok Ah c'è un puzzle game Ok Qui c'è morte Oh un puzzle game Oh finalmente un puzzle game Ok Allora Esperimento numero uno Intelligenza Esercizio memoria Eh In In Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Ovvero è Gli vansi the color Rosso Rosso Blu Rosso Blu No penso che solo una vada bene Che cazzo stai facendo Che Ho sentito aprirti qualcosa Riapri Riclicca quella leva Mi sa che siamo quella dopo La prima era rossa quindi se metti solo rossa Blu Arancione Eccolo Oh che cazzo è qua Io non ho proprio memoria di niente Devo abbiamo accendere un'altra Allora questo qua il celeste e questo qui Vabbè avveniamo tutta a casa Questa No No, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. 13? Qualcuno ha rotto un blocco? No, non ho rotto niente, sto sto cercando di rispondere. Allora, aspetta, fermo. Slash item ladder. 5, 6, 8 e 9. C'è ancora qualche blocco, sì, ho gli assi di legno. Ok, fatto. La risposta è 13. Perché? Perché penso che sia 13. 1 più 4, 5, 7, 11. No, non è 13. Secondo me è... No, secondo me è... No. Allora, 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. Eccola! 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 No, la sui c'è di leva a casa. Ah, I was joking. Ah, no, joking. Stava scherzando. Li odio, si indovina il cazzo. No, perché non contiene la T? Cioè, no, vaffanculo. Non è solitata qui. Mmm, secondo me c'è qualche cesta. Oh! 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 Cos'è che c'è? Cos'è, cos'è fatto? Tirato una leva. Era l'unica leva, ho tirato la leva. Eh, sì, hai fatto cadere Xaxx. Ah, no, no, non hai fatto cadere Xaxx, Xaxx. Cioè, l'Enigma 3 comunque qui, eh? Me lo faccio da solo? No, 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 no. Mi piacciono gli Enigma 3. Mi piacciono gli Enigmi. W meno Y più Z per Z. Allora, no. No, ma non ho queste cose di matematica. Ah, stop e vedo se vado a mangiare. Voi continuate intanto. Ok. Allora, lui va a mangiare e noi si sale. Fai! Allora, lo guardiamo, sì! E adesso, questo è il problema. Allora, lo guardiamo. Allora, l'allora, l'angeli. Allora, l'angeli. Allora, l'angeli, l'angeli. Poi che non si può essere un po' di più, non si può essere un po' di più, non si può essere un po' di più. come la? allora 184, 155 più 0, 10, 47, 47 288 più 129 ok, beh, 200, 1000 200, 1000 1, 100, 1000 dici qual è la Aizion? era 47, no, no, non l'Aizion era 55 allora 55 più 0 che era 47 ah, ma stavo giusto, no, è 184 meno 102, 3, 47 4884, mettiamo 1 da 3000 ah, aspetta, l'iniziale, ah, 20 anni tipo 2,000, più 1000, 3,000 quasi detto 6,000, 5,500 3,220, 5,9 eccolo, la motta prima e l'altra ah, aspetta, è facile, ah un po' di tempo, no no, non c'è niente, è lì funzionare la parte sinistra perché sono collegati una sinistra nella testa ecco fatto ecco 7000 va ok, dai just keep walking, don't be afraid eh? ok oh, lo so, vabbè, si può poi si prende la spoiler just keep walking just keep walking, 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 walking ok, si good yes good 60% test eh manage poi perfetto qua c'è pressure game quindi penso che si farà un parkour sul fuoco e non mi piace la cosa quindi senza Ale chiuderemo qui questo episodio Ale cioè Ale sex vuole andare avanti no, è possibile sta cosa ecco you can do it ok, I can do it ce l'ho fatta la prima dai, no, no, allora non si chiude, sì prova ad andare avanti ok 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 lo aggiungo c'è niente ok ok Ikea ok ok ho anche mancato il fuoco qui alla fine questo era il primo esercizio salti caldi ok ok abbiamo avuto divertimento abbastanza adesso vai qua oh è quale infatti importa il pins qua vabbè delle portate e mi è continuo dai ma siamo nella stanza successiva ok ho messo i miei la mia polvere di blaze qua così in modo da non perderla metterei anche tipo la una pozione e la terrei di resistenza al fuoco ma devo fare anche le mele dorate si ce l'ho fatto questo questo ce ne metto 3 di qua ok se hai qualcosa di importante da mettere mettilo nella cesta adesso vediamo che sia troppo tardi vabbè che te lo dice proprio lui si infatti important things ne ho messo tutte le mie bellissime no lava parkour qui si sbloccherà non posso accedere ok max che facciamo andiamo avanti no no si ferma qua si ferma qua questo episodio si e allora un saluto da maxetto da axax e da ale e da link netherog89 mi raccomando e alex95 guardate i nostri video oh e guardate i nostri video oggi vi annuncio che ho appena finito disonored ho tipo 12-13 video di gameplay completo guardate il video e commentate mettete mi piace e soprattutto sono più belli di voi di max e mettete non mi piace vi aprirò a casa facendo smoke e buff mentre cagate mentre cagiamo ok e allora i nostri video sono migliori mandatemi alla casa ah bravo un saluto da maxetto ciao